signori e signori benvenuti nelle news della settimana numero 17 ma prima vi ricordo di seguirmi su tutti i canali social e sul mio sito web che trovate il link in descrizione su instagram sia lorenzo d'anne che lorenzo d'anne gaming signori novità interessanti nell'ambito videoludico perché andiamo con ordine playstation plus premium rockstar games e conami saranno dentro all'abbonamento di playstation plus ora vi andrò a leggere a quanto pare tramite un post twitter di x scusate non twitter di playstation lifestyle a quanto pare scrive conami e rockstar games classics potrebbero arrivare su playstation plus premium se dovesse arrivare questa cosa del genere come è successo con ubisoft plus e ea play sarebbe una roba fighissima 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 e spero che farebbero con la stessa cosa dell' xbox game pass ovvero tutti i giochi in un unico pass playstation ecco quindi spero che facciano questa cosa poi prossima notizia a quanto pare spider man the great web come io ho pubblicato un video reaction del trailer che poi è uscito un secondo trailer sono uscite delle immagini dei leak eccetera a quanto pare un utente sempre di x molto importantissimo ha detto queste parole ragazzi questo gioco non è stato cancellato è stato semplicemente sospeso ed è dovuto al fatto che insomniac games ha altri progetti in cui doveva lavorare si dice che questo sia anche una roadmap del dlc di un dlc di spider man 2 attenzione per favore non ascoltare tutte le voci secondo cui questo verrà cancellato ora quanto ci devoliamo credere su sta cosa io spero tanto a me mi piace tutto quindi spero che esca questo gioco della marvel multiplayer di spider man e spero che insomniac ci faccia un pensiero su ma adesso abbiamo la news molto importante qualche giorno nel mese scorso di marzo per me è ancora marzo oggi però per voi nel mese scorso di marzo avevo detto che i giochi la sony stava incentrando concentrandosi sui giochi remake ma a quanto pare un utente di twitter sempre di twitter che di nome si fa chiamare silk knight che sarebbe la stessa persona che ha fatto trapelare la data del pc di ghost of tsushima quindi il gioco su ghost of tsushima su pc ha detto che ci sono diversi progetti in candiere riguardante santa monica studio che adesso vi andrò vi andrò ad elencare la serie god of war remake barra remastered sarà realizzata da uno studio esterno quindi non da santa monica studio poi ci sarà un god of war half sequel che sarà il sequel di atreus qualcosa bolle in pentola secondo me quest'anno potrebbero rilasciare qualche chicca e prossimo titolo principale della linea principale di god of war quindi non è un problema io comprerò tutto questo tutti tutti li compro tutti e spero che queste vi siano date delle buone notizie passate una bella domenica noi ci vediamo prossima settimana con la news della domenica numero 18 ciao a tutti ragazzi un bacio ciao a tutti